Per continuare la partita di sabato sera, devo ancora decidere la formazione, giocheranno tutti, devo dare il viotaggio ancora a tutti i giocatori, soprattutto perché questa partita verrà a chiudere un ciclo di lavoro importante, dove è stato fatto un buon lavoro. Ho trovato un gruppo di ragazzi, un gruppo di Ventus disponibile al lavoro, soprattutto con obiettivi importanti da raggiungermi in stand. Abbiamo un gruppo fantastico, è certo che ancora si può migliorare. Il campionato non è facile perché l'anno scorso è stato un battagione veramente straordinaria, però penso che la squadra ancora si è riforzato con giocatori di qualità, che sicuro che possano portare tanti posti alla squadra e questo vuol dire che ci rimane l'esteso gruppo dell'anno scorso e ancora vengono giocatori che possono portare di più, credo che la squadra può essere ancora più forte. La Champions League è un trofeo che non sarà mai per me un'ossessione, ma sarà sicuramente un trofeo che fino a quando non avrò vinto con la squadra e grazie all'aiuto di tutti. Grazie per la visione!